Respingiamo ogni proposta calata dall'alto e la nostra battaglia da sempre, da quando la città di Battipaglia ha sfilato per le strade, gridando con forza e pretendendo il rispetto del territorio e della salute dei cittadini. La Regione sta ignorando una proposta che è ancora in corso, sta ignorando gli impegni presi con le istituzioni cittadine. Non ci arrenderemo. Ora dovranno ascoltarci, abbiamo inviato un'ennesima richiesta di incontro, dichiara la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese. Non sono solo in questa battaglia. Battipaglia non è solo in questa battaglia. Lo ha dimostrato la grande manifestazione del novembre scorso e di ieri il tavolo di confronto tenuto dai sindaci presso la sede dell'Anci Campania sulle problematiche scaturite dalla realizzazione del piano rifiuti, anche alla luce delle novità introdotte dal disegno di legge regionale sulla semplificazione. Battipaglia, prosegue la francese, non è disponibile ad avere altri impianti sul territorio ed è necessario tenere conto di quelli già esistenti. Non siamo disposti a diventare la pattumiera del meridione. Infine la sindaca Cecilia Francese è precisa. Inoltre il nostro impegno sul territorio in merito ai miasmi è continuo, serrati controlli ed ordinanze che garantiscono il rispetto delle regole. Molte aziende sono state poste sotto sequestro, alte sanzionate e diffidate. Il controllo del territorio sta avvenendo in maniera certosina e non ci fermeremo.